Ciao a tutti, sono Manuel Bellone, sono qui stasera allo Spaghetti Unplugged. Per me fare musica significa trasmettere qualcosa a chi mi ascolta, significa dare un piccolo pezzo di me e sperare a chi mi piace. Una canzone è simile al fare musica, è come un figlio. Spaghetti Unplugged è un'ottima realtà per tutti i musicisti che fanno musica inedita e non hanno un posto dove magari esibirsi. Ho avuto un'ottima birra Blanche alla Spina.